Il bilancio di un comune italiano può essere così difficile da leggere e comprendere, tanto da impedire anche agli addetti ai lavori di avere un'idea chiara e tempestiva sulla reale situazione finanziaria dell'ente. Se ne è parlato a Bari nel convegno organizzato dalla FNPCS Repuglia Basilicata che prende il nome dall'agile ed omonimo opuscolo di Roberto Moro, dirigente dei servizi finanziari, patrimoniali e tributari del comune di Novi Ligure. Come spiega Vita Antonio Taddeo, segretario generale della FNPCS Repuglia Basilicata, lo scritto è utile e indispensabile per una negoziazione accompagnata da conoscenze adeguate. Saper leggere e interpretare i bilanci dei comuni per chi fa contrattazione sociale come noi è il mezzo, il veicolo più importante, perché attraverso la lettura dei bilanci noi capiamo qual è la volontà politica di quel comune, di quel sindaco, di quell'amministrazione rispetto alle esigenze degli anziani, di quanto vogliono spedere per il welfare. Certo, noi oltre che interpretare e capire, la prima cosa che vogliamo capire è se un bilancio comunale è in equilibrio. E come molti bilanci purtroppo non sono in equilibrio, noi non chiediamo tutto a prescindere. Noi vogliamo prima capire se il bilancio è in equilibrio, noi possiamo chiedere e fare una contrattazione seria, ma se il bilancio non è in equilibrio rischiamo di parlare delle nulle. E lo fate oggi attraverso anche la presentazione di uno pusco, una pubblicazione? Sì, un libro, io libretto perché è piccolino, ma è molto intenso e molto qualificato. Tra l'altro è un libro che verrà subito aggiornato con la nuova normativa che i comuni saranno chiamati a rispettare, ad adottare. È un manuale che lo può leggere chiunque, non solo l'addetto ai lavori, ma anche il semplice cittadino, perché è spiegato così bene, così in maniera italiana, senza vocaboli inglesi, come spesso purtroppo accade. E quindi deve essere il manuale da avere in borsa, da consultare in quel momento quando un cittadino o chi fa contrattazione va al comune. Il segretario, ieri anche Anna Maria Furlan ha preso posizione rispetto al problema delle pensioni. Certo, noi certamente saprete che sul problema delle pensioni, oltre alla Confederazione, la Cisla si sta spendendo perché la legge Fornero va cambiata, noi il 19 di maggio abbiamo una grossa manifestazione dei pensionati a Piazza del Popolo a Roma e ancora prima il 6 di maggio abbiamo gli attivi unitari qua in Puglia, proprio per parlare delle pensioni, della legge Fornero, ma noi non dobbiamo dimenticare anche il discorso della reversibilità, perché purtroppo la reversibilità non è uscita dal progetto del governo e hanno detto a parole che non toccheranno niente, però purtroppo la richiesta nostra di togliere quelle tre parole non l'hanno tolta, quindi siamo seriamente preoccupati e stiamo riscontrando, penso che noi dalla Puglia partiranno oltre 30 pullman come FNP, Cisla, ma nei primissimi giorni i pullman erano già tutti pieni e c'è una richiesta di partecipazione enorme, cosa che non che ci ha meravigliati perché noi abbiamo il polso della situazione quando andiamo nei comuni, quando andiamo nell'RLS e quindi sappiamo quello che c'è, lo stato d'animo dei nostri pensionati, ma ci consola il fatto che le battaglie che facciamo non le facciamo a nome personale, ma le facciamo veramente a nome della nostra gente che rappresentiamo.